Manga Plus è attualmente il più famoso servizio di manga scan ufficiale e gratuito. Penso che Shueisha abbia fatto un'ottima mossa a fare ciò perché credo fermamente che le scan gratuite servano a scoprire nuove serie, a leggere sempre di più e ad accendere così la passione di una persona, che poi, delle sue serie preferite, quasi al 100%, comprerà i volumi alla loro uscita. Nessuno mi toglie questo dalla testa, è meglio comprare qualche serie piuttosto che non comprarne nessuna. Forse non tutti sanno che dopo Manga Plus è nato anche Manga Plus Creators e questo video è incentrato proprio su ciò. Quindi bentornati sull'Oshino Podcast, l'unico podcast in Italia che parla di anime e manga e soprattutto l'unico podcast che potete ascoltare in modo totalmente gratuito, proprio così avete capito bene. Ma a parte le cagate, fondamentalmente che cos'è Manga Plus Creators? Quest'app è nata dalla collaborazione tra Shueisha e Medibang e grazie ad essa ogni fumettista in tutto il mondo può inviare i propri lavori a Shueisha, potendo scegliere addirittura il senso di lettura, che sia orizzontale o verticale, o che sia da destra verso sinistra, o da sinistra verso destra. C'è anche la possibilità di vincere dei premi mensili in denaro e questo ovviamente fa molta gola, oltre al fatto che quelle serie un giorno potrebbero essere pubblicate su Manga Plus. Sono veramente poche le persone che vanno a parlare di quello che succede in questa piattaforma, d'altronde come biasimarle dato che già con i manga pubblicati dalle varie case editrici diventi scemo a star dietro a tutte le uscite e selezionare quello che vorresti continuare a leggere. Tuttavia quest'oggi vuol dar spazio a quelli che sono degli artisti esordienti nel campo manga. Non ho letto ovviamente tutte le serie presenti su Manga Plus Creators, però ne ho lette alcune che mi hanno colpito in qualche modo e le ho trovate veramente fighe. Quindi vorrei trasformare un attimo questo video in un video di consigli fondamentalmente. Perché tutto ciò magari qualcuno si chiederà? Perché penso che Manga Plus Creators in qualche modo sia il futuro del manga. Nel senso che quegli artisti esordienti che ci sono qui un giorno potrebbero essere quelli che pubblicano su riviste giapponesi. E quindi leggere qualcuno dei loro fumetti, vedere un po' quelle che sono le loro idee, secondo me è qualcosa che può fare solo che bene. Cosa che non faccio mai, mi sono addirittura creato un account per andare appunto a commentare e a mettere tra i preferiti le varie serie che mi piacciono. Perché penso sia una cosa davvero importante. Quindi nel mio piccolo mi sento di fare quello che faccio. Ma parliamo un po' di quelli che sono i lavori presenti su questa applicazione. Ruthless Render di DD Mark con 2K. Questa è una serie che mi ha stupito sia per lo stile di disegno, sia per la scrittura della storia che mi è sembrata davvero buona. Per ora abbiamo circa una decina di capitoli, purtroppo la pubblicazione non va avanti così velocemente. Però dio mio raga, quanto gasa. Creepy al punto giusto, c'è molta azione, c'è il soprannaturale, i personaggi sembrano particolari. Ci ho visto una leggerissima, ma leggerissima ispirazione a Jujutsu Kaisen, che potrebbe pure non esserci, però un po' me l'ha ricordato. Questa è una delle serie più apprezzate attualmente su Creators e spero possa diventare presto una serie che vedremo su Manga Plus. Secondo me ha delle idee molto interessanti che sviluppate nel corso dei capitoli potrebbero portare a dei frutti belli grossi. Un altro di cui vorrei parlarvi è Deadly 2 Dead, spero di averlo pronunciato bene, di Arunas. Una serie appena iniziata, che avrà circa, credo, tre capitoli, che racconta una situazione molto strana. Infatti i personaggi sono esseri umani, ma ci sono anche animali umanoidi. Mi è sembrato un po' per un momento di rileggere Beastars. Ci sono anche tavole disegnate in modo molto particolare. Devo dire che mi piace un casino questo stile, perché non si vede spesso un paneling simile, come si vede nell'esempio che vi sto mostrando in questo momento. Si parla anche qui fondamentalmente di soprannaturale, di poteri particolari. Mamma mia, anche questo mi piacerebbe un casino leggerlo su Manga Plus, affinché più persone possano iniziare a vederlo. Un terzo che vorrei consigliarvi per chi magari è già più navigato nella lettura, è Running to Your Heart di Senchiro. Questo qui devo dire che ha un tratto veramente fighissimo. È una storia che non ha balloon, che va letta, capita e apprezzata, senza che venga detta nessuna parola, ma solo osservando. Non so voi, ma ogni tanto le storie così mi piace leggerle, perché portano quello che è il Manga allo stato grezzo, la comunicazione attraverso il disegno senza aiuti esterni. È un one-shot, quindi monocapitolo, e si tratta di uno slice of life. Ce ne sarebbero in realtà anche altri da citare, alcuni purtroppo li ho letti in passato, ma li ho persi di vista, ovvero non mi ricordo i titoli. In caso ve li metterò comunque alla fine del video. Quindi io con questo video in sostanza vi ho dato questi tre titoli con cui poter, diciamo, iniziare ad approcciarvi a questa applicazione. E il messaggio che voglio dare è fondamentalmente di provare a dare importanza a questa piattaforma, perché un giorno potrebbe diventare il futuro del Manga. E niente, voi cosa ne pensate? Conoscevate questa applicazione? Soprattutto la frequentate? Quali sono le vostre serie preferite da leggere? Io per questo video vi ringrazio per la visione, magari consigliatemi anche voi se avete qualche serie che vedete qui, insomma, che a me piace sempre un po' bazzicare per Manga Plus Creators, oltre che su Manga Plus Classico. E niente, noi ci ribecchiamo alla prossima, vi ringrazio tantissimo per la visione. Un saluto.